Se mi fosse chiesto di spiegare lo spirito giapponese direi che hai fiori di ciliegio illuminati dal sole del mattino. Apriamo con questa citazione di Motori Norinaga il video per introdurvi al concetto estetico giapponese del Mono Nohaware. Esso esprime una forte partecipazione emotiva nei confronti della bellezza della natura e della vita umana con una conseguente sensazione nostalgica legata al suo incessante mutamento. Trovare una traduzione esaustiva a questo concetto risulta complesso in ogni lingua. In italiano può essere pathos, sensibilità estetica o partecipazione emotiva alle cose. Si ritiene che questo concetto col passare dei secoli si sia radicato nella cultura giapponese fino ad influenzare i valori ed il senso estetico presenti nel Giappone contemporaneo. Il Mono Nohaware si potrebbe tradurre anche come il sentimento delle cose indicando una raffinata sensibilità interiore verso la natura transitoria della bellezza e della vita. I Sakura sono i perfetti oggetti dell'estetica del Mono Nohaware, un'esplosione di bellezza tanto intensa quanto effemera, destinata a durare solo pochi giorni. Il termine è formato dall'unione di due parole, Mono che in giapponese significa cosa e aware, che in origine indicava una semplice esclamazione di stupore riferita ad un soggetto naturale, come la luna piena o un fiore sbocciato. Parlando di Mono Nohaware non possiamo non citare l'opera di Murasaki Shikibu, Genji Monogatari, scritta intorno al IX secolo che segue la vita e le vicende amorose di Genji lo Splendente. La storia nasce dall'amore tra l'imperatore e una concubina che per non creare scandali a corte viene stromesso dalla successione imperiale. Genji è una figura affascinante, un uomo colto e raffinato, conoscitore delle arti che un uomo di corte deve saper padroneggiare, poesia, musica e calligrafia. Il ritmo del romanzo è scandito dalle infatuazioni e dalle passioni amorose tra il protagonista e le donne che incontra nell'arco di tutta la sua vita. A spingerle soprattutto quello che venne poi nominato complesso di Genji, ovvero l'incessante ricerca di una donna che possa somigliare alla madre defunta quando lui aveva solo tre anni. Sarà infatti la ricerca di una sostituta, di una figura somigliante, a spingerla a compiere azioni talvolta pericolose e immorali. Un esempio eclatante è il rapporto con la principessa del paviglione di Glicine, la moglie del padre, dal quale nascerà l'erede imperiale, ritenuto a lungo da tutti i figli dell'imperatore, oppure l'amore paterno verso la piccola Murasaki che Genji incontra durante un viaggio sulle colline occidentali per guarire dalle febbre intermittenti. Genji la porterà a palazzo dove verrà cresciuta e istruita sotto la sua supervisione. Non mi lamento di un destino che condivido coi fiori, con gli insetti, con gli astri. In un universo dove tutto passa come un sogno, non ci perdoneremmo mai di durare per sempre. Non mi addolora che le cose, gli esseri, i cuori siano perituri, dal momento che una parte della loro bellezza è fatta di questa sciagura. Ciò che mi affligge è che siano unici, saranno in fiore altre donne, sorridenti come quelle che ho amato, ma il loro sorriso sarà diverso. Altri cuori si spezzeranno sotto il peso di un amore insopportabile, ma le loro lacrime non saranno le nostre lacrime. Mani umide di desiderio continueranno a intrecciarsi sotto i mandorli in fiori, ma la stessa pioggia di petali non cade mai due volte sulla felicità umana. Osservare i sakura, i fiori dalla vita più breve e per questo ancora più degni di attenzione, produce nell'animo sensibile il monono auare, il sentimento di nostalgia per la caducità delle cose, ma anche l'ammirazione della bellezza quando si presenta, breve e gloriosa davanti ai nostri occhi. I sakura rappresentano tutto questo. Ogni anno si va a guardare lo sbocciare di quei fiori così delicati, si va a gioire di quel breve attimo di evanescente bellezza, perché ogni anno è un evento unico e irripetibile, perché se sbocceranno altri fiori non saranno mai gli stessi. Vale la pena dunque fermarsi e caricare il cuore di emozioni, vivere il momento, consapevoli che non si potrà ripetere. Il monono auare è un concetto così semplicemente bello, che forse porterebbe più consapevolezza e sentimento nel ripetersi delle abitudini quotidiane, se venisse compreso e adottato anche da noi occidentali. Ovviamente spiegare un concetto così profondo e legato alla sensibilità di un intero popolo in pochi minuti di video non è semplice, ma speriamo di avervi incuriosito. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store!